Siamo con il dirigente scolastico della Scuola Tinozzi per parlare del grande successo ottenuto da questo progetto Erasmus Plus. Professoressa, vogliamo spiegare di cosa si è trattato? Allora, Erasmus Plus è il nuovo programma che dal 2014 ci accompagnerà fino al 2020. Noi come scuola abbiamo progettato e realizzato il progetto Flip & Movie, che si occupa di lettura e scrittura creativa. Perché? Perché noi abbiamo analizzato i dati statistici in cui i ragazzi 15 anni non hanno più quella capacità e quella competenza linguistica. Quindi, come invogliare i ragazzi alla lettura e alla scrittura, renderlo veramente un elemento trainante per il futuro di queste giovani generazioni? Per questo il progetto, coordinato dall'Istituto Comprensivo Pescaraotto, ha coordinato varie scuole della Lettonia, della Slovacchia, della Croazia, della Spagna. E insieme abbiamo realizzato un kit di formazione che si chiama Be Happy to Read and Write e un educational game che è proprio Story Inventor. Sono stati coinvolti più di una sessantina di ragazzi, di studenti, di tutte le cinque scuole partner. Solo qui da Latinozzi sono partiti 26 ragazzi, ma anche ha coinvolto le loro famiglie, che quindi si sono appassionate a questo progetto europeo, e lo stesso gli insegnanti. E lo stesso gli insegnanti. E lo stesso gli insegnanti.